Ehi, questo Natale c'è una sorpresa puffosissima! Finalmente! Sky ci regala il corto dei puffi, Christmas Carol! Io odio il Natale! Un piccolo capolavoro d'animazione da puffare con tutta la famiglia! Buon Natale a me! Cercalo il 24, 25 e 26 dicembre sul canale 350 o se hai mai Sky, su Sky On Demand! Vieni, è Buon Natale! Più puffo di così? Grazie a tutti!